La civiltà contadina al centro della città, con questo spirito, l'amministrazione comunale di Macerata, in collaborazione con molte associazioni, ha riqualificato Borgo Ficana, interamente costituito da case di terra cruda, che entrerà a far parte della rete Macerata Musei, sempre in continua crescita. Cresce con un altro pezzo dell'itinerario dei beni culturali a Macerata perché Villa Ficana è un eco-museo, cioè un museo abitato, un museo dove si può conoscere le radici e la storia della nostra civiltà, della nostra civiltà tradizionale, ma è anche un museo, eco-museo, che parla del futuro, di un futuro sostenibile, di un futuro aperto alla bioedilizia, un futuro aperto a dinamiche di relazione molto più ospitali e tranquille e serene. Per l'occasione tante le iniziative che faranno da corollario all'evento, a partire da un importante convegno nazionale che porterà a Macerata tanti rappresentanti dell'Associazione Internazionale Città della Terra Cruda. Il 19 alle ore 15, un convegno presso il Teatro Lavoro Rossi, Riabitare la Terra, è un convegno organizzato dall'Associazione Internazionale Città della Terra Cruda, in collaborazione chiaramente con il Comune di Macerata, Macerata e Comusei e la nostra associazione. Il 20 si inaugurerà la mostra 100 volte marche alle ore 18 presso la biblioteca Mozzi Borgetti e il 21 finalmente l'inaugurazione dell'ecomuseo, quindi a Borgo Ficana, dalle 17 in poi. Prima ci sarà l'inaugurazione ufficiale, poi tutta una serie di attività lavoratoriali, presentazioni dei progetti di altre realtà simili in tutto il mondo e poi ci sarà anche un momento più conviviale, grazie anche all'aiuto dell'Associazione Pista Coppi che animeranno musicalmente il Borgo. Grazie a tutti.